Il giorno e la storia. Oggi è il 27 dicembre. 1831. Charles Darwin si imbarca verso il Sud America e le isole Galapagos. 1968. La Pollo 8 rientra sulla terra ammarando nell'Oceano Pacifico. 1901. Nasce Marie Magdalene Marlène Ditri. Commenta il fatto del giorno Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana. Oggi parliamo di Peter Pan, il ragazzo che non voleva crescere.